Qual è il nodo centrale di questo racconto? Di che cosa ci vuole parlare il Vangelo con questa parabola delle Dieci Vergini? Allora, la parabola è parte di un grande discorso di Gesù che abbraccia due capitoli del Vangelo di Matteo, il capitolo 24 e il capitolo 25. Questo discorso è detto anche il discorso escatologico di Gesù, cioè il discorso di Gesù sulle ultime cose. Questo è il senso della parola escatologico. Scatologico è ciò che parla dell'escaton, cioè delle ultime cose, del gran finale del mondo. Tutto il tempo nella visione biblica non è visto e letto in modo circolare. Il tempo ebraico non è il tempo degli antichi greci, che è un tempo ciclico, cioè che si ripete continuamente. Non è sottoposto alla legge dell'eterno ritorno, perché l'universo ebraico non è eterno. L'universo ebraico ha un inizio e una fine, perché ha una creazione e ha un punto di arrivo. Noi cristiani abbiamo ereditato questo concetto dall'ebraismo e lo abbiamo anche addirittura rinforzato, perché abbiamo posto nella logica dell'universo, nella lettura e tutte le cose, un'alfa e un'omega, un inizio e una fine, che è Cristo stesso. Quindi Cristo stesso, inizio e fine, ma se c'è un inizio e una fine, allora il tempo non è circolare, non è un serpente che si mangia la coda, non è sottoposto a un eterno ritorno senza senso, ma ha una direzione, ha un punto di arrivo, ha un esito, ha un finale, ha un significato. Perciò il tempo è un movimento da un punto A, un punto alfa, a un punto finale, un punto omega. Questo movimento è un movimento anche drammatico, perché è un movimento che affronta il conflitto, perché affronta la trasformazione, il cambiamento, lo sviluppo. Si parte dal basso e si arriva in alto, si parte dal buio e si arriva alla luce, si parte dal male e si arriva al bene. Se volete è una semplificazione, perché in realtà il racconto biblico ci presenta un inizio già nella luce stessa, una caduta nel male e poi una riconquista del bene. Quindi c'è una storia più complessa di così. Ma questo per dire che, secondo la visione biblica, l'universo intero è in qualche modo una ripresentazione su scala cosmica del cammino di ogni singolo uomo. O se volete, il cammino di ogni singolo uomo che viene al mondo e che attraversa, quindi, il suo spazio e il suo tempo, che va incontro, quindi, dalla nascita alla morte, a un percorso che lo porta a compiere un'esistenza, ecco, il cammino di ogni singolo uomo è in piccolo il cammino dell'universo intero, che va oltre, però, il singolo uomo, che supera immensamente, infinitamente, le dimensioni della vita individuale. Però, allo stesso modo, come una vita individuale ha un compimento, così l'universo stesso avrà un compimento, avrà un senso, un significato. E questo significato dov'è? Qual è? Qual è il momento di questo compimento? Non si sa. Non è dato a noi saperlo. È qualcosa che è pienamente nel segreto di Dio. Però c'è. Noi siamo avvisati che c'è. Allora, il discorso di Gesù punta verso la fine, ma la fine non intesa come fine del mondo. Questo l'abbiamo già ripetuto altre volte. Ci sono altri video che ho fatto sul discorso escatologico di Gesù, che è un tema che ritorna anche negli altri Vangeli sinottici. Ma è un discorso sul fine, più che sulla fine. Sul fine, cioè sul significato, sul fine che è nella fine, cioè sul senso che sta al di là di tutto il percorso, dentro il percorso stesso, perché il percorso si muove verso questo fine. Allora, quindi il discorso escatologico di Gesù è un tirare le somme di Gesù. Tutto il suo cammino punta verso il momento della croce, perché la croce e la passione della risurrezione segnano il significato della sua vita personale. Però il significato della vita personale di Gesù, quindi della sua missione, coincide, questo è il Vangelo, questa è la rivelazione cristiana, coincide col significato del mondo intero, cioè il significato stesso del mondo è legato all'esito e al significato della vita stessa di Gesù. Il discorso escatologico di Gesù punta su due momenti finali, cioè la sua passione, morte e risurrezione, e il finale del mondo, che sarà in una certa misura passione, morte e anche risurrezione. E' come se questo discorso escatologico proiettasse la vicenda di Gesù sul mondo intero, sul significato intero del mondo. Ciò che Gesù fa sta per dare significato a tutte le cose. In questo discorso Gesù parla delle sofferenze che verranno, delle trasformazioni che ci saranno, dei momenti drammatici, dei momenti anche di morte che attendono l'umanità, ma sta parlando nello stesso tempo di se stesso, perché è lui che sta per affrontare questo momento di trasformazione, di cambiamento, di morte. Ma tutto questo prepara anche la rivelazione finale della risurrezione. Dolore, morte, sono soltanto la tappa di un cammino verso la risurrezione. Vanno letti alla luce della risurrezione. Questo è il discorso escatologico di Gesù. Siccome il discorso escatologico punta verso le ultime cose, cioè verso le cose finali, le cose che stanno al di là della nostra esperienza singola, individuale, personale, della nostra piccola porzione di tempo che viviamo, siccome sono uno sguardo sull'insieme di tutta l'opera di Dio, allora questa verità, capite, trascende dalla comprensione dell'uomo. È un irrompere della trascendenza nella vita dell'uomo. E quindi Gesù non può che usare delle immagini e delle parabole. Il discorso di Gesù escatologico, l'ultimo discorso di Gesù è ricco di parabole, cioè di racconti che sono una narrazione della trascendenza, quindi sono una sfida a muovere la nostra anima verso l'assoluto. La parabola degli dieci vergini va letta in questa chiave. Su questa stessa parabola ho fatto già un video, un video in cui approfondisco, proprio spiego come funzionava il matrimonio nell'antichità, quindi anche nell'antico Israele, e il significato di queste dieci vergini nel contesto di una celebrazione matrimoniale. Qui si parla di ragazze non sposate che sono le damigelle d'onore della sposa. Come avveniva questo matrimonio? Sapete che il matrimonio antico aveva diverse tappe. Quello ebraico soprattutto si svolgeva in due momenti principali. Lo sposo andava a casa della sposa, chiedeva la mano della sposa ai genitori, i genitori concedevano la sposa, facevano incontrare i ragazzi, se i due si piacevano e se anche la sposa andava bene, questo formalmente non era richiesto, però di fatto si faceva, allora si organizzava il fidanzamento. Il fidanzamento era un impegno vero e proprio che lo sposo prendeva nei confronti della sposa. Era un impegno talmente forte che addirittura era preferibile, secondo l'insegnamento dei rabbini, rompere il matrimonio dopo piuttosto che rompere l'impegno in un fidanzamento. Quindi era un impegno molto serio. Passato un anno dal fidanzamento vero e proprio, allora c'era la festa matrimoniale e consisteva in questo. La ragazza attendeva lo sposo nella casa, quella che sarebbe stata la casa della famiglia, e i ragazzi avrebbero accompagnato in corteo con delle fiaccole lo sposo fino a raggiungere la casa della sposa. A queste fiaccole si sarebbero unite le fiaccole delle damigelle della sposa e con un grande corteo avrebbero accompagnato tutti fino dentro la stanza nuziale. A quel punto gli sposi sarebbero entrati nella stanza nuziale e il matrimonio sarebbe stato bello che c'è il brado con la loro convivenza e solitudine e intimità nella stanza nuziale. E poi questo dava il via in realtà a una serie di festeggiamenti che andavano via per diversi giorni. Però il momento culminante era questo, quello di questa processione solenne in cui i ragazzi e le ragazze non ancora sposati accompagnavano lo sposo e la sposa. Lo sposo alla casa della sposa e poi insieme alla stanza nuziale. Questa era la cerimonia. Allora è necessario però che ci fossero queste luci, che ci fosse questa festa, che le lampade fossero accese perché se tutto questo, capite, non si verificava, non era di buon auspicio e ovviamente si faceva un'offesa agli sposi e il fallimento della festa sarebbe stato, diciamo, soltanto una brutta figura ma anche abbastanza penoso, fatale per gli sposi stessi. Quindi si faceva di tutto perché le cose funzionassero. Che cosa accade nel racconto del Vangelo? Che ci sono due tipi di damigelle, cioè quelle sagge e quelle stolte. Ma qui saggezza e stoltezza vanno intese in un senso molto preciso perché è qui che si gioca il significato di questa parabola. Ci sono quelle che hanno l'olio a sufficienza e quelle che invece appunto non ce l'hanno, non gli basta. Lo chiedono, anzi, devono andarselo poi a cercare perché le altre non lo mettono loro a disposizione, arrivano troppo tardi, restano fuori e quindi non possono partecipare alla festa. Non sono pronte, non hanno quello che serve, il fuoco acceso per poter partecipare al momento di gioia. L'elemento fondamentale per comprendere la parabola è l'olio, è l'olio di queste lampade. L'olio è un richiamo però al lavoro dell'uomo. Cioè quest'olio che tiene accese le lampade rappresenta tutta la fatica dell'uomo, della donna, insomma, della persona laboriosa che produce nella vita gioia, abbondanza, benessere. L'olio è, se volete, una realtà che diventa nella Bibbia spesso simbolo di benessere, di bontà, di abbondanza. Cisico spargeva d'olio per profumare. classico profumo di mirra che andava per la maggiore a quei tempi in Israele era proprio spesso mescolato con l'olio l'essenza della mirra e quindi si profumava perché ci si ungeva con il profumo. Quindi l'olio è segno di abbondanza che nasce dal lavoro di benessere e gioia che nascono dall'impegno dell'uomo. Perché? Perché l'olio si raccoglie a fatica si deve lavorare per poter coltivare i beni della terra e l'olio è uno di questi. Se volete una conferma di quello che vi sto dicendo il brano chiave per comprendere il Vangelo di Matteo delle Vergini e la Parabola delle Vergini per tutti i commentatori quindi non soltanto per me che adesso ve lo suggerisco è il capitolo 31 del Libro dei Proverbi andate a leggervi il Libro dei Proverbi al capitolo 31 dal versetto 10 al versetto 31 uno dei brani più famosi del Libro dei Proverbi qualcuno dice che l'espressione una donna perfetta si potrebbe tradurre anche come una buona casalinga ovviamente in questa visione della donna non dovete soffermarvi sull'aspetto diciamo del ruolo della donna di casa ma ciò di cui sta parlando il Libro dei Proverbi in realtà è che qui la donna viene rappresentata come essa stessa un'immagine della sapienza biblica e la sapienza biblica in realtà consiste non nella conoscenza di tante cose la sapienza biblica non è conoscenza non è scienza non è neanche uno scienza della Bibbia la sapienza della Bibbia è il saper vivere è la sapienza della vita è il saper riconoscere il valore della vita il sapore vero della vita allora questa donna di casa questa donna di famiglia che con la forza del suo fisico ma anche con la prudenza delle sue azioni la sua capacità di saper risparmiare di fare scorte la sua laboriosità è una benedizione per la famiglia intera è un vanto per la famiglia ma anche capite è una colonna della società è vero che esiste anche la donna che lavora e che fa tutte e due le cose cioè quindi è una colonna della società con il suo lavoro ed è dottia colonna perché fa anche il lavoro in famiglia non dimentichiamo che in realtà insomma avete capito senza le mamme e le donne che lavorano sia in casa che fuori casa capite che le nostre famiglie sarebbero terribilmente impoverite anzi forse la vera ricchezza della famiglia è proprio il lavoro delle donne sia a casa che fuori casa ma la Bibbia si sofferma in realtà su una figura che rappresenta un saper vivere che attraverso un'azione prudente intelligente un rapporto con le risorse saggio crea intorno a sé felicità gioia benessere sicurezza e questo è l'ideale verso il quale ci porta a riflettere esattamente la parabola cioè le vergini sagge sono sagge perché sanno vivere l'attesa si sono preparate bene si sono organizzate bene hanno lavorato molto per preparare quel momento che nel racconto è il momento della festa ma capite fuori dal livello del racconto l'evangelista Matteo di che cosa sta parlando sta parlando delle nostre vite affannate che aspettano il momento della gioia della festa che aspettano il momento di celebrare qualcosa di bello che nel caso del racconto è l'incontro con il Signore che ritorna perché lo sposo che viene è il Cristo che viene alla fine dei tempi il Cristo risorto che si manifesta alla fine dei tempi ma questa gioia non può che essere vissuta nell'attesa e questa attesa è lunga questa attesa è indeterminata in questa attesa ci si può persino addormentare ma se non si lavora se non si è pronti se quella dormire nell'attesa non è dormire per una stanchezza estrema perché si è fatto tutto quello che si doveva fare allora c'è il rischio di essere impreparati di essere appunto stolti sciocchi cioè vuol dire non saggi nel senso biblico di sperperare di sprecare di lasciarsi sopraffare dalla pigrizia dall'improvvisazione dal non senso ecco vedete come questo discorso della preparazione o l'impreparazione alle avversità sia particolarmente grave in un momento anche come quello che stiamo vivendo quindi essere preparati alla vita essere preparati nella pratica a incontrare il Signore valorizzando l'esistenza del momento diventa decisivo qui non dobbiamo dimenticare che ciò che il Vangelo ci propone non è una teoria non è una dottrina fine a se stessa non è un catechismo non è semplicemente un credo un'adesione uno schieramento quello che il Vangelo chiede il Vangelo soprattutto quello di Matteo ci siamo tornati tante volte è un Vangelo che richiede azione che richiede trasformazione dell'esistenza è il Vangelo più pragmatico di tutti è il Vangelo per cui non ha senso la distinzione tra fede e opere perché andate a rivedere la fine del discorso della montagna il finale del discorso della montagna cioè alla fine del capitolo 7 del Vangelo di Matteo 5, 6 e 7 i capitoli 5, 6 e 7 di Matteo si concludono con la famosa parabola della casa fondata sulla roccia ecco la donna è la colonna della casa e la casa fondata sulla roccia è fondata sulla roccia perché è mettere in pratica la parola questa è la vera sapienza la vera saggezza il saper vivere e il mettere in pratica la parola di Gesù la parola di Dio questo è il tenere il fuoco sempre acceso avere la scorta d'olio è questa saggezza è questa fondatezza nella realtà nella verità nell'incarnato della vita non nella teoria non nell'idea astratte ma nell'incarnato della vita spesso fa discutere il perché queste vergini non condividano l'olio con le più stolte sembrano egoiste non basterà né per noi né per voi questo questo finale non è nella parabola un atto di egoismo ma un richiamo alla responsabilità cioè arriva un momento in cui c'è qualcosa che non si può condividere cioè io posso condividere i beni posso condividere il pane posso condividere i vestiti ma l'olio qui rappresenta il frutto delle proprie scelte responsabili e la propria responsabilità individuale personale non si può condividere cioè io non posso fare per te quello che tu avresti dovuto fare per te stesso cioè non posso sostituirmi alla tua responsabilità personale capite? questo è il giudizio finale il giudizio finale è esattamente questo ciascuno risponderà delle proprie azioni cioè ciascuno risponderà di se stesso e non potrò prendere in prestito da qualcun altro la mia responsabilità perché ciascuno ha se stesso da portare davanti a Dio quindi qui si vede il nodo esistenziale decisivo del saper vivere della sapienza della vita della saggezza di queste ragazze preparate all'incontro con lo sposo veramente preparate alla festa di queste ragazze di queste ragazze Grazie a tutti.